Sa molto di pulizia etnica, soprattutto perché loro hanno sempre detto di volere fare le cose condivise, partecipate. Così le minoranze denunciano l'atteggiamento verso gli avversari politici da parte della coalizione che sostiene la Giunta Manildo. L'ultimo episodio ieri sera in consiglio con il caso delle scuole paritarie a Turazza. Bocciata la variazione che diminuiva nella dirigenza della scuola la presenza del comune, aumentando quella dei genitori, forse, sottolineano le minoranze, perché della politica sarebbe rimasto solo il Presidente eletto dal passato governo della città. E sarebbe solo l'ultima di una serie di decisioni prese, sottolineano le minoranze, senza tenere conto di pareri contrari, con l'obiettivo di eliminare ovunque indiscriminatamente gli avversari. Sembra di essere tornati al ventennio con colori rovesciati. Visto che per loro contiamo così poco o nulla, noi ci siamo prefissati di ritirarci nell'Aventino. Noi infatti non parteciperemo più alle conferenze di capigruppo. Ma questo non vuol dire che si placi la battaglia, iniziando proprio dal caso Turazza. Non finisce qui perché tutta la minoranza unita ha deciso di ricorrere al TAR, coinvolgendo l'IPAB a piani Turazza, tutto per ripristinare la democrazia che ieri purtroppo è venuta a mancare.